Il 12 e il 13 ottobre si è svolto a San Piero a Sieve il primo Memorial Pavarelli. L'evento è stato ideato dalla Fly Fox di Firenze con Alessandro Sgrani e Stefano Asirelli, veri e propri punti di riferimento dell'organizzazione. L'idea è nata sulla base di un confronto amichevole tra gli amanti di questa splendida riserva. Progressivamente si sono aggiunti nomi eccellenti del panorama garistico internazionale con nomi di assoluto spessore come il due volte campione del mondo Valerio Santi Amantini e i membri della Nazionale Italiana di Pesca Mosca. Attorno all'evento è maturato un progressivo interesse che ha portato anche molti sponsor come Sandro Soldarini e Flyteckel a contribuire per la migliore riuscita della manifestazione. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire la meravigliosa Tailwater Sieve. Dalla costruzione della diga di Bilancino le condizioni del fiume Sieve sono completamente cambiate. La temperatura dell'acqua si è inevitabilmente abbassata creando le condizioni ideali per la nascita di un no kill a soli 20 km da Firenze, con pesci veramente importanti per qualità e pezzatura. Gira per la boogie We love to boogie On a Saturday night Yeah Questo è lo scenario tecnico che ha contraddistinto la due giorni correnti medi e veloci con modesta profondità e pesci estremamente selettivi in quanto prevalentemente naturalizzati. Non solo per quello, mi sono convinto che Stefano sarebbe contento di vederci su TV a pescare nella sede e poi vogliamo a chi non lo conosce a far conoscere questo fiume e niente, poi soprattutto, come l'ultima importanza, stare pronto insieme a vecchie facce e conoscere un simbolo in quattro piaccia di lui e anche lui. Allora, il campo è diviso in quattordici box, va bene, si parte dall'uno che è alla centralina a scendere, uno, due, tre e quattro piaccia. In alcune situazioni i box non sono conseguenti, quindi uno, due, ovviamente dove c'è il cartellino, quindi ci sarà il quattordici che a chi capita ci smette d'accordo perché ovviamente deve andare all'uno. e poi quelli che non sono proprio attaccati, ma si parla di uno o due, ci si sistema, ci sarà da fare un pezzetto a piedi, insomma, ci si trova, è tutto lì. Basta, finito di rompervi e si può partire con me. Il Cicci e il cappello c'ha le taglioni, tante. Allora, io seguo questi lancoli. Facciamo 30 secondi di scelta. 30 secondi di scelta. Grazie. 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 In sostanza il Memorial è stato strutturato come un confronto a coppia nell'arco di due giorni con le regole classiche delle competizioni a Mosca. Due sessioni giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio, di tre ore ciascuna. Il fiume è stato diviso in 14 box precedentemente monitorati che sono stati assegnati con appositi sorteggi. Le tecniche consentite hanno ricalcato quelle presenti nel regolamento del tratto no kill della sieve con l'opportunità, quindi, di poter pescare anche a check nymph con due nymph appesantite. La classifica è stata redatta in funzione del numero delle catture e della misura dei pesci. La classifica è stata redatta in funzione del numero delle catture e della misura dei pesci. In considerazione della trasparenza dell'acqua, le tecniche adottate sono state principalmente la pesca streamer, specialmente a inizio gara, e poi la pesca nymph. di sopra non so ancora nulla, cioè, so quella numero uno, la slamata una grossa. del piano di sopra contribute fiume con un certo hell borrow. Ora inseremo la vostra si è andata qua. Non so se mi lascia di trovare con Roceto una cittura perlanda, una strada riserva in Stage warense a qui con il pressioncze. Adonati di logica clicca plastica del pò andale. figura di primo piano è stata certamente Valerio Santi Amantini genovese di nascita e piemontese di adozione in nazionale dal 2001 e due volte campione del mondo di pesca mosca la sua presenza ha rappresentato l'occasione per vedere in azione un campione del suo calibro nel contesto della tailwater sieve molti pescatori si sono dati appuntamento sulle sponde del fiume proprio per scoprire e capire l'approccio tecnico dei tanti campioni presenti per l'occasione oltre al già citato campione del mondo c'erano infatti tanti altri componenti della nazionale italiana di pesca mosca inizialmente molti partecipanti hanno impostato il loro turno di pesca a streamer proprio per cercare di stimolare i pesci in caccia con imitazioni dai colori vivaci e proprio per questo particolarmente attraenti le trote in alcuni box hanno risposto positivamente a queste imitazioni mentre in altri settori questa scelta si è rivelata decisamente inadeguata l'occasione dell'occasione italiana di pesca moneta ma anche in alcuni box hanno risposto positivamente a questa scelta Non è possibile, non è possibile. La bezza. Percorso una prima volta il tratto assegnato a streamer, la quasi totalità dei presenti è passata alla tecnica delle competizioni, la Czech Nymph, che oltretutto si è sposata perfettamente con le condizioni del fiume. Segnalatore colorato e due nymph attaccate al finale per sondare meticolosamente ogni anfratto della riserva. L'azione pescando con le tecniche della ninfa corta è stata evidentemente interpretata soggettivamente dai partecipanti. I maggiori frutti li hanno dati coloro che hanno effettuato passate morbide e naturali, cercando di evitare accuratamente qualsiasi dragaggio degli artificiali. Come si addice ai grandi campioni, Valerio Santi apre le danze. La bezza. La bezza. La bezza. La bezza. La bezza. Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti